Inarrestabile Indomabile Ineguagliabile Inconfondibile Unica Mercedes Classe G 350D Lunga Automatica Immatricolata Il 30 giugno 2015 93.996 km esatti 211 CV di potenza Dura E solida Come i fuoristrada di una volta Vero fuoristrada In grado di superare davvero qualunque tipo di percorso Anche il più impervio Tosta Dura Nuda E cruda Classica Fuori Ma dentro È lussuosa e moderna Come una limusina Davvero full optional Con interni in pelle totale Canto automatico E pad al volante Tetto panoramico Aprile Sedili regolabili elettricamente Con memorie Navigatore Sedili riscaldabili Don't think about it Hey Just let her go Cause her boyfriend is a rock and roll Save her every moment Till she has to go Cause her boyfriend is a rock and roll She's an only supermodel She's an only supermodel Ah!